salve ragazzi e bentornati da zio ivan oggi registro il quinto episodio della serie su warioware tuttavia in questo momento che sto registrando non è ancora neanche uscito il primo episodio quindi non ho idea se questa serie piacerà o no tuttavia io vado avanti anche perché a me il gioco sta piacendo quindi riprendiamo warioware abbassiamo un pochino ok abbiamo giocato con jimmy ci mancano orbulon e ashley giochiamo con orbulon vai cosa è stato quel rumore intanto le gemelline continuano a saltare che fifa eh che stai combinando oh colpa mia orbulon un alieno che aspira a conquistare la terra vive qui da tanto e conosce bene la nostra cultura carino orbulon attrae ciò che si trova sotto di lui con il suo raggio muovi e usa il raggio ah ok quindi ci apriamo un varco andiamo sopra assorbi tutto da paura mi piace bene bene il mio raggio traente non funziona con questi così ascoltami questa roba non sparirà se non mettiamo fuori gioco tutti quei bug cattivi capisco capisco allora il qui presente orbulon si sbarazzerà di questi bug con stile ok come al solito andiamo su automatico così non facciamo torto a nessuno e giochiamo pronto Ma anche la Ma anche la Ma vedi che carino Tutti i regali Ok si comincia Allora Ok dovevamo fare un pupazzo di neve Trova la stessa Non ho capito cosa toccava fare Vai a tempo Neanche qui Vai Ok questa è andata Ma naturalmente Più veloce Ok mi sono dato fuoco ma ha funzionato Ce l'ho fatta Sì buono Grande ce l'ho fatta Sposta e guarda dietro Ok rana Aspetta aspetta Una rana che teneva Questo? Sì Grande Mamma mia Pelo pelo Grande Ok Più veloce Vai Ah Eh ho capito ma Ah porca miseria Non era così Osserva Trovalo Ok 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 Mi sa che dovevo mettere quello sotto il riflettore Ma come cavolo facevo Porca miseria ragazzi Game over Ma noi non ci scoraggiamo E continuiamo Tanto solo per 100 monete Tanto le potremo raccogliere Vai Ok mettiamolo Ma perché non ci va sotto Ah forse dovevo abbassare il riflettore Beh comunque siamo arrivati dal boss Ok Ok Fai passare Va bene Quindi vado qui E devo tenere il ponte alto Per far passare la nave Eh ok Dov'è la fregatura? A meno che dopo un po' non si strappa Ah E che Lo sapevo io Quindi devo tenere il ponte abbassato Quando passano le macchine Le vetture E alzarlo Quando passano la nave Ok Non mi sembra Particolarmente difficile Ah E il fatto è che pian piano Cominciano ad accelerare No Giù 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 Stai giù Ma era una finta? Ok Passano le macchine Finchè non si scontrano Ma più che bene Piccione Calma Eh aspetta Aspetta Nooo L'ho fatta cappottare Porca miseria Ok posso riprovare? Va bene Però vi posso dire Con questi stick Dalla corsa breve Non è facile Sono piccoli Non sempre riesco a capire Esattamente se sto andando giù Sinistra Destra Comunque Facciamo passare la nave Ok Ok Basta lasciare lo stick Per far passare le macchine Io invece teniamo premuto verso l'alto Ok Con delicatezza Anzi Ecco che arriva la nave Teniamolo giù Attenzione Ok passano le macchine Fermo non mi rompere l'anima Torna su E quanto pesa quell'uccello Ah 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 Dai Dai Giù Ok Cosa passa? Auto Un'altra nave Ultima Ok 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 Tutto sommato Non è difficile Sempre nel momento Che si capisce come si gioca Vai Pussa via A posto Completato anche questo Orbulon Orbulon Domina i bug E poi Il mondo intero E si unisce alla squadra Bene Bene Altre mille monete Siamo a 1800 Altro livello completato Quindi Ora ce ne andiamo a fare Ashley A tema Cibo Mi piace Mi piace A tutta forza Vai vai I problemi qui Sono piuttosto evidenti Ah ah Ashley Avrei dovuto Immaginarlo E pensare Che cominciavo Finalmente A divertirmi Una streghetta Adorabile Ashley Non sopporta Tutto ciò che è carino E tende a non mostrare emozioni Ama fare incantesimi E adora mangiare Ashley Lancia un incantesimo Nella direzione In cui è rivolta È adorabile Ok Ok Rompi Ok Non è difficile Però Bisogna essere Molto precisi Con lo stick Ok Si va a sterminare Qualche bug E tu Ci aiuterai E perché Dovrei Muah Perché lo dico io E perché Ah tanto non ci servi Certo che vi servo Ok Allora Stavolta scegliamo Mike Nove volte E cricket E si riparte Cominciamo Cominciamo Oh Magione di Ashley Carina Si mangia Ricevuto Incanti Pasta Ho Bracaburto Bracaburto Ho Disconcio ma è da paura lo voglio anch'io questo potere palla uscire oh la pallina e no ok bene ci siamo finiti la pannocchia buona la pannocchia lascia solo il dolcetto fatto yes oh la 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 ok calma approvazione non ho fatto in tempo a fare neanche un la 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 vai più veloce scritto col pomodoro spero che sia pomodoro grande abbiamo fatto una bella spremuta perché no cancella f cancella f oh pera per un pelo abbiamo fatto la parola pera che cosa devo regolare sono andato a caso meno male falle cadere e porca miseria dai da mangiare ehm siiii sono grande ho salvato pippi calze lunghe sono pronto dei nuovi devo togliere la chiave inglese siiii perché no accendi ah no dovevo portare la candela su le altre candele osserva o no eccolo eccolo qui non temo nessuno ok ragazzi boss salve ah spremi ah dobbiamo fare non far trabloccare il succo ah devo schiacciare ok devo arrivare fino al limite e poi devo schiacciare i chicchetti 2 ok carino no aspetta bene tempiamoli mamma mia pelo pelo capisco perché sono morto ma no non ne farò una ragione io ce li provo ma non ho capito perché ha traboccato continuo certo mai arrendersi non ho finito qui non ho finito qui bene ok dobbiamo spremere l'uva per fare il vino senza farla traboccare spremi spremi e non far traboccare il succo ah ecco quindi ecco devo stare attento a non farlo uscire fuori allora aspetta eh attenzione ok basta bene bene ok ok quindi questo questo e adesso questo bene ultima calma e vai stavolta è andata quando si affrontano per la prima volta questi giochi tante cose non si sanno però giocandoli una volta due volte poi si impara e anche questa è andata niente ma chi se ne importa Ashley si unisce alla squadra bello altre mille monete siamo a 9700 ok abbiamo concluso anche questo qui quindi ora si va avanti chi sarà il prossimo novità il carrello da miniera quindi questo qui è il remix numero 2 ok 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 ragazzi visto che siamo quasi a 20 minuti comunque per questo gameplay mi fermo qui abbiamo sbloccato altri due personaggi e per adesso mi sta bene io per adesso vi ringrazio mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale condividete questi video fateli conoscere a tanta gente aiutatemi a crescere e noi comunque ci vediamo la prossima volta ciao ragazzi oli abbraccione Grazie a tutti